e ricordate che abbiamo ancora pochissime uova di toccolato, uova, come voglio dire, sono palloni da maschere da 20 euro, ci sono maschere 20 uova, con l'idea anche la visione del corpo che abbiamo mette per avere super, gli uomini sono le maschere, poi abbiamo un set di martini di toccolo, una ripostazione da Nando, il caffè, e ovviamente anche il cioccolato, Useti e partiti sono 20 mesi che 30 mesi della festa, stasera, e oggi ho venuto tutto, un anno che faccio la grazia stasera, abbiamo andò, avrete su famoso Useti, e quindi sono, e ho yato, e ho i nostri Useti che posso contare un ranco, per provare una grande sabbia! alla fine avremo il premio finale e il giro del gruppo eccoci allora c'è qualcuno che ci ha dato un po' per un giro un giro di quello di Maurizio allora ecco lui deve andare a fare il caffè per un qui andiamo a trovare il giro questo è un po' per un'altra parte quello è il peresco quindi ovunque gli uoi questa è ovviamente felice di col niente felice è molto severo Vai! 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 Attenzione! Vai Mauro! 3! 2! Oh! 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 E adesso, la Lucetta di Tocco Poi! Inventamente dalla Cisina! Uau! Un po' bene! 2! 1! Uau! Un buon applauso! Un buon applauso! E le mani a tirare! E le mani a tirare! Adesso! Che here andiamo! Diene il presidente delle reglerazioni del campo pencare il responsabile della terna allens kitty. Vporturale. Eccolo! Un buon applauso per due common renverti che le solle che l'unica è dell'istau! Eccolo! Grazie. Grazie. Grazie a voi, grazie a nostre volontà che con l'anno anche tanto lo sono stati e compagni una grande sfida in diversi luoghi. Io come credo che non è sicuramente il massimo, ma 1.563 euro da l'alte a credito. Sono grato per l'iniziativa che è stato molto bene, che va molto bene. E' una società del primo, è una costruzione anche del primo di sempre. Sono quello che mi chiede a fare, oggi sono da sport, e poi nella mia sport, queste strade di social. Magari per la società del tempo, la vicenda io sono sempre stessa in un'attività di giro, e quando sono un'organizzazione di sede di social, mi potete, non so più, 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 non so più. E' un'ottima cosa. Grazie per l' optimistico. Grazie a tutti.